E' stato presentato nella Sala Rossa del Palazzo Municipale il progetto SUAP, Sportello Unico Attività Produttive Online, che ha come finalità la velocizzazione delle pratiche, risparmio di tempo e diminuzione dell'utilizzo della carta. Grazie all'adozione del nuovo software e la ristrutturazione del sito, le pratiche potranno essere presentate online ed i benefici ricadranno soprattutto sulle imprese. Il Sindaco di Pordenone è Claudio Pedrotti. Continuiamo ancora la nostra avventura con la presentazione oggi pomeriggio di questo nuovo modo di interagire con il nostro Sportello Unico per le imprese e le aziende attraverso l'invio digitale dei documenti. Un modo diverso di interagire con la nostra struttura, con le persone che si occupano all'interno del Comune di questi documenti e per avere una tracciabilità, cioè la possibilità di vedere il trasferimento verso altri enti esterni che alla fine ci fanno diventare come dovremmo essere, cioè allo stesso livello degli altri paesi in Europa. Pare che siamo i primi in Italia o tra i primi ad adottare tecniche di questo tipo. Da un lato andremo un po' a stressare la nostra struttura interna, ma alla fine andremo a chiedere uno sforzo per capire che questo è un vantaggio per loro e per imparare a volte delle cose nuove. Dobbiamo essere su certi fronti i pionieri, consci dello sforzo e dell'impegno per essere pionieri, ma al tempo stesso avendo sempre presente che il cittadino è il centro della nostra azione e che deve essere aiutato sempre e comunque nel usare gli strumenti che noi proponiamo.